eccoci qua nuovo pacchettino andiamo super veloce perché già col filtro abbiamo tirato lungo andiamo veloce con l'OVICI sempre KTM 690 SMCR l'OVICI full system catalizzato riusciamo a aprirlo andiamo a vedere che bello anche lo scontrino messo qua non sembrava eccezionale secondo me visto che c'è lo scontrino iniziamo col dire 964 euro da Viola Motors top ci abbiamo messo un po' però non era colpa loro praticamente non c'era non c'era disponibilità proprio dalla casa andiamo veloce tanto aroma fondelle in carbonio tanto aroma di Kinder però top di gamma qua questo qua questo qua andiamo a vedere se ci sono un po' di drone che abbiamo preso completo registrazione prodotto qualche adesivello insegna top di gamma roba così che non ci interessa tromboncino tromboncino con catalizzatore tre punti di saldatura volendo non per uso stradale si può togliere un bel peso questo eh un bel pesetto vari cavi viti qui dovrebbero esserci dentro l'omologazione da mettere da tenere nel libretto si è infatti certificato di omologazione che penso siano questi qua questi qua questi qua questi qua con i vari numeri di serie penso del del tromboncino con l'euro 5 che è catalizzato più terminale infatti ci sono i numeri di serie che trovate qua top di gamma le cittine qui abbiamo il collettore non so può aprirlo tanto bene ora filtro terminale silenziatori tutto quanto qua collettori scusate e via andiamo a montare dovremo vedere tutti i laboretti ciao grazie a tutti